pensi che tu e il tuo cane siate la coppia più bella del mondo allora preparatevi e mettetevi in posa dal 5 maggio al 7 luglio c'è dog hunter il grande concorso di galleria porta di roma che premia te è il tuo amico più fidato scopri come partecipare e vincere su galleria porta di roma cari colleghi vi aspetto a galleria porta di roma